Noi protestiamo perché stiamo avendo un sacco di problemi, il lago non è che sta morendo, il lago è morto e vogliamo dare risposte urgenti perché sennò il consorzio dei pescatori di Schitella sta a chiudere i battenti. Anzi, i giovani ormai non ci stanno più, hanno cambiato tutti quanti i mestieri e la maggior parte dei soci ci hanno abbandonato, quindi il consorzio attualmente siamo 2-3 persone da 40. E' dispiace, dispiace molto perché avevamo creato un'eccellenza a livello italiano e europeo, la San Michele e purtroppo adesso siamo fermi, se non si prendono dei provvedimenti seri la regione fa capo a questa situazione che è l'ente che ci dovrebbe tutelare, siamo finiti. Le problematiche sono perché il canale di Foci e Varane è anche quello di Capoiale, praticamente sono anni che non si fanno dei lavori strutturati, non si draga, non si fanno delle bonifiche accurate. Automaticamente il lago soffre perché se non c'è il ricambio giusto di acqua siamo arrivati che è morto praticamente. Chiediamo che ci danno delle risposte veloci e serie, non risposte a chissà, perché noi adesso a chissà non possiamo starci più, vogliamo che prendano in considerazione che qua nel Gargano Nord ci stanno delle famiglie che stanno in sofferenza, questo è sinceramente della politica, noi non ci interessano né dalla destra né dalla sinistra, l'importante è che ci aiutino urgentemente più che altro. La nostra presenza è per rappresentare ancora una volta che siamo sul pezzo, come si suol dire, siamo vicini a questa categoria che è flagellata da anni, soprattutto dalle ultime calamità naturali. Abbiamo deciso di mantenere un profilo basso, evitando la caciara, lavorare in maniera silenziosa, in costante e continuo con gli organismi competenti, regione compresa. Allora, come l'amministrazione nostra si è mossa in tempo, in quanto il 20, ci dovrebbe essere il dragaggio di questa foce, prima del 20 l'acqua, i fondali vengono analizzati. Le operazioni di dragaggio verranno effettuate se questi enti che in questo momento stanno scandagliando i fondali, i loro risultati sono negativi, per cui non c'è nessun materiale di tipo inguinante. E se l'ARPA, analizzando sempre i sedimenti, risulteranno anche lì negative le analisi. Nel momento in cui ci sarà qualcosa che non va, il dragaggio sarà spostato a settembre.